Siamo pronti per la diretta e non lo so cosa sta succedendo qua. È arrivato Romazzi e stiamo decidendo di fare cazzare. Allora adesso invitiamo Greta e facciamo una foto in tre e scriviamo. Stiamo per, non lo so, non ho fatto un cazzo oggi, vai. Cioè mia mamma si è operata agli occhi e sembra vasco. Solleva gli occhiali. Scusa mi fai vedere, dai togli gli occhiali, fai vedere, dai. Ma no sei carino. Siamo pronti. Sì. 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 Sì.